buongiorno 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 ben ritrovati a questa video analisi dedicata alle principali valute realizzate in collaborazione con il broker top fx di cui state vedendo la home page gli strumenti finanziari su cui potete operare forex indiciazioni metalli energetici etf a condizioni molto molto vantaggiose prezzi affidabili esecuzione ultra rapida spread interbancari con commissioni basse e attraverso due piattaforme la meta trader 4 la c trader entrambe le potete provare con un conto demo che non vi obbliga all'apertura di un conto reale e come sempre io vi invito a dare un'occhiata soprattutto a provare la c trader perché ha dei grafici molto belli professionali un sistema di missione ordine che vi fa vedere prima di entrare al mercato quanto capitale il margine richiesto dal broker il valore del singolo punto la distanza in euro percentuale punti e pips rispetto al profit e lo stop e poi c'è anche il copy trading ovvero la possibilità di replicare automaticamente i traders che voi scegliete nel mondo del copy trading che lo trovate eccolo qua siamo nella c trader in alto a sinistra cliccando su copy trovate tanti fornitori di strategie potete anche voi candidarvi gratuitamente a farlo e li scegliete in base a quelli che sono i parametri che trovate qui in alto quindi ve li vedete per bene e potete provarli anche inizialmente anche questi con un conto demo quindi senza rischiare nulla cliccando dentro nel singolo sistema come quello di oggi che ci pone sottopone a nostra attenzione il bravo costantino responsabile per l'italia di top fx che mi manda di cenato da uno che da questi o poi condivido con voi all'interno di questa video analisi oggi vediamo penguin giusto penguin sì penguin che vedete questa è la schermata quindi da qui entrate dentro nel singolo fornitore di strategia vedete subito l'occhio cade alla performance in percentuale in pips numero di copiatori da quanto tempo è presente all'interno del copy trading la sua equity le condizioni previste per poterlo seguire queste le potete fissare anche voi se diventate fornitore di strategie l'andamento mensile ha cominciato molto bene il 2021 un riepilogo un report delle sue performance qui i numeri relative ai trades quanti a rialzo a ribasso vincenti perdenti gli asset su cui strumenti finanziari su cui ha operato altre statistiche l'andamento dei copiatori vedete e ci sono poi anche qui lo storico delle operazioni di tutto quindi trasparente potete scegliere uno più sistemi anche ovviamente e poi vi invito ad andare sul canale zen fx official che state vedendo su telegram il cui link lo trovate sotto nella descrizione di questo video su youtube dove ci sono tanti video che sta realizzando costantino che sta facendo un lavoro fantastico in cui spiega proprio per bene come funziona tutto il mondo ed in più ci sono dei sondaggi e soprattutto sta portando di pari passo i resoconti report le statistiche degli stessi traders che è quello che vedete penguin che risulta tra i sistemi con un top profit factor quindi di pari passo avete un doppio riscontro sia quello che trovate qui nella c trader sia quello che sta prendendo i dati che sta elaborando costantino da my fx book vedete che cosa c'è che cosa trovate a disposizione e direi che vi fa un filtro molto 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 importante un aiuto in più e vedete grande grande costantino cosa accade se il fornitore di strategia fa un prelievo in c trader per esempio vedete questa potete anche unirvi anzi vi invito a fare a unirvi al canale poi c'è lo zen fx copier che passa da metatrader alla c trader guardate sto scorrendo tanti cosa accade se il fornitore questo fa un deposito prima era il prelievo mi sembra che era l'altro video cosa accade se elimino fondi in una strategia in c trader cosa accade se aggiungo i fondi in una strategia cosa succede se avvio la copia di una in una strategia con posizioni aperte come creare una strategia privata guardate ce n'è davvero tanto di materiale cliccate cliccate in basso sul canale telegram siamo a 569 entro stasera dobbiamo arrivare a 600 io già ho messo il sono già unito a questo canale dai entro stasera dobbiamo arrivare a 600 600 non so se arriva l'euro dollaro nel momento è già tanto arrivare a 1 e 21 dove adesso in questo momento stiamo guardando il grafico giornaliero e chinasci ufficialmente ha messo la freccia l'euro dollaro ha messo la freccia al rialzo e prende come riferimento quella che era una ex zona di resistenza ma questa debolezza di dollaro la si vede anche contro il franco svizzero che a sua volta prende un ex supporto guardate che i livelli grafici sono andati a stuzzicare gli operatori gli investitori in questo momento inverte al ribasso e già movimenti importanti 0 40 tantissimo nel forex dollaro yen che stava sopra performando al rialzo alla fine mi sa che anche lui si convincerà di una possibile inversione del trend sterlina invece è vicina all'ennesima violazione di una resistenza bruttissimo questo grafico l'ho evidenziato nei giorni scorsi mentre le commodity currency ovvero le valute la cui economia dipende principalmente dalle materie prime vedono astraliano al rialzo dopo la candela verde del 5 febbraio oggi ha toccato un nuovo massimo a 0 77 36 il neozelandese era rimasto in qualche modo sempre al rialzo sopra questo supporto 0 71 e 0 8 vediamo se arriverà avrà la forza di andare oltre la resistenza 0 72 90 in questo momento il semaforo è verde a suo favore a favore dei rialzisti mentre il canadese procede al ribasso anche qui dollaro debole si apprezza la moneta cad oggi con un minimo a 27 12 adesso a 1 27 e 30 e con questo è tutto grazie buona giornata arrivederci